Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebi Meteo, diamo insieme uno sguardo all'Europa dove resiste l'alta pressione sul Mediterraneo ma fenomeni di instabilità nel comparto centro settentrionale. E nel particolare della nostra penisola alta pressione prevalente ma con fenomeni in arrivo al nord sull'arco alpino in estensione poi durante il giorno anche a parte della Valpadana. In tutto questo i valori termici li vedete a lato, restano tutto sommato caldi, non eccessivi per il periodo. E ora il particolare del nord Italia, come vi anticipavo dei fenomeni di instabilità diurna che a partire dall'arco alpino sconfineranno sulle alte pianure le prealpi e le pedemontane. Per il resto ampi e schiarite altrove. Nel dettaglio invece del centro Italia si confermano condizioni per lo più asciutte praticamente ovunque con solo qualche annuvolamento in transito e qualche blando piovasco sulla dorsale appenninica. Infine al sud la situazione resta soleggiata soprattutto anche sulle isole maggiori dove splende un magnifico sole. Per ora è tutto, aggiornamenti su trebimeteo.com